Il decreto sul federalismo fiscale Quindi l'attenzione è stata volta esclusivamente a pensare qualcosa che potesse avvantaggiare i proprietari già ricchi perché per quelli con redditi medi c'è sostanziale indifferenza nell'applicazione tra un'aliquota e un'alta. Ed è incredibile come il dibattito sia stato solo in questo senso senza affrontare il reale problema che c'è in questo Paese, cioè il fatto che non si incontra una domanda oggi difficile con un'offerta oggi incompatibile con le esigenze della popolazione. Si è stimato che i costi dell'acetolare secca andranno tra 900 a un milione e mezzo di euro quando a noi al Sunia fu detto che non c'erano fondi per un'acetolare secca che fosse rivolta solo al canale concordato e che non c'erano fondi per aumentare il fondo sociale per gli affitti rivolto alla parte della popolazione più debole e che necessitava di incentivi particolari. Oggi si sono trovati i fondi e si sono trovati fondi solo da regalare ai proprietari molto ricchi in un Paese in cui si procede verso una grossa differenziazione, un grosso squilibrio sociale tra parti della popolazione e questo a fronte di una manovra recente stimata di circa 25 milioni di euro. E questo cioè un Paese in cui si crea un forte divario tra le fasce di popolazione, un forte squilibrio sociale, un'erosione di reddito reale e un passaggio economico tra una parte più debole e una parte meno debole della popolazione. C'è un travaso da poveri a ricchi. È necessario che nel passaggio del provvedimento nella conferenza Stato-Regioni siano messe in campo tutte le misure necessarie perché questo provvedimento sia cambiato e siano introdotte, in parte reintrodotte, le vere misure che possono aiutare il mercato delle locazioni e cioè la convenienza fiscale nel canale concordato che può essere l'unico elemento che andrà a calmerare il mercato delle locazioni e i veri elementi che possono combattere l'evasione fiscale in questo settore. Un'evasione che oggi è stimata intorno a un imponibile di circa 13 miliardi di euro e per un'imposta corrispondente evasa di circa 3 miliardi e mezzo di euro. Oggi infatti sfuggono al fisco la metà dei contratti. Ci sono un milione e mezzo di abitazioni fantasma che sfuggono al fisco. E' importante che siano introdotti elementi come la tracciabilità e le ritrazioni fiscali del reddito anche da parte degli inquilini che possono davvero riportare chiarezza in questo mercato.